Prima di un grande inizio deve esserci caos. Com'è? Buono o insomma? Consigli per l'estate. Alcune cose piuttosto fresche consigliate con queste temperature. E' strana questa casa. Io da quando sono qui mi sembra che non succeda niente. Lei deve imparare ad ascoltarsi. Solo se impara ad ascoltarsi si farà sentire. Quindi non ce l'è, è un lavoro. E non è ancora deciso quello che fare da grande. Tu invece lo sai sicuramente. No, ma io ho 11 anni. Mi stai seguendo? Ma veramente è il contrario. Fa differenza? Fabrizio. Nina. Non ce la faccio. A fare che? A essere normale come gli altri. Avere un lavoro, un fidanzato. Che c'è di male a essere come gli altri? A paura. Ma tu sarai sempre speciale. Che piazza, che piazza che sarà. Che piazza, che piazza che sarà. Grazie a tutti.